Grazie professor Bocci. Passiamo alla professoressa Grion. Uno dei problemi però che vengono sottolineati anche oggi dall'ordine degli psicologi sono i danni psicologici della DAD, la frustrazione dei ragazzi con la didattica a distanza. Lei ovviamente ci potrà illuminare un po' con questa diversa vicenda. E' uscito un articolo in cui si dice che hanno ascoltato i ragazzi, hanno raccolto dati dai ragazzi e la conclusione di questo studio è stato che la DAD a distanza non attutisce i danni dell'impossibilità di andare a scuola e non attutisce i danni soprattutto perché i ragazzi provano stress, noia e fatica. Innanzitutto mi chiedo a quali danni ci si riferisce, gli psicologi dicono ai danni psicologici e poi si parla di stress, noia e fatica, come se queste cose non le avessimo mai sentite nella scuola in presenza. Mai si è sentito che un ragazzo prova stress, noia e fatica nella scuola in presenza. Io questo vorrei ricordare che era uno dei grandi temi dibattiti che i giornalisti, i giornali quotidiani e la stampa portava avanti. La scuola è stressante, la scuola è noiosa, la scuola non motiva i giovani eccetera eccetera, mentre adesso improvvisamente la scuola in presenza è diventato il gioiello che ci è venuto a mancare. Al di là di questa polemica mi chiederei anche a quali danni ci si riferisce quando si parla di didattica a distanza, ossia se si parla di danni psicologici, allora perché non battersi psicologici dovuti al fatto di non avere un rapporto con i compagni, di avere scarsità di relazioni con colleghi, con altre persone e sono anch'io una mamma, anch'io due ragazzi adolescenti, quindi non parlo solo da accademica ma parlo da mamma. Io li sento tantissimo questi problemi, ma perché non battersi contro l'apertura delle società sportive, contro i centri dove i ragazzi potrebbero incontrarsi all'aperto invece che pensare alla scuola come luogo esclusivo di socializzazione e non invece come luogo culturale che è lo scopo principale della scuola. Per quanto riguarda i danni di apprendimento io sono fortemente contraria e ho dei dati che dimostrano che i danni di apprendimento non ci sono qualora la DAD si voglia e si sappia fare bene. Ci sono delle ricerche e ricordo che la DAD non è un qualcosa che non è mai stato messo in campo anche nelle scuole primarie e in altri paesi del mondo. Un esempio fra questi è ad esempio il periodo della guerra, la ricerca è stata fatta nel 2001, quella a cui mi sto riferendo, era il periodo più efferato della guerra fra palestinesi e Israele. E cosa è successo? La comunità palestinese ha messo in atto, proprio per l'impossibilità dei ragazzi di andare a scuola, ha messo in atto attività di DAD. Cosa è successo? Che alla fine noi ricercatori sappiamo che in Israele e in quelle zone gli aspetti educativi sono molto importanti e studiati anche molto bene. Alla fine di questo periodo sono state fatte delle ricerche e queste ricerche dimostrano che non solo i ragazzi sono riusciti a raggiungere, ho qui davanti a me, adesso non ve lo mostro, ho davanti a me i dati, non solo sono riusciti a raggiungere i minimi apprendimenti che avrebbero raggiunto nella scuola in presenza, ma addirittura, dice questo studio, che c'è stato un supporto sociale da parte di chi metteva in atto questa DAD, tanto che non ci sono stati danni psicologici dalla partecipazione alla DAD, nonostante, dobbiamo dire, quella era una situazione di guerra, quindi molto più stressante di quello che stiamo vivendo oggi. Questo era nel 2001, se si vuole dire che quella era una situazione particolare, possiamo andare alla ricerca condotta nel 2009, anzi prima lo studio è stato pubblicato nel 2009, comunque è uno studio che è stato condotto nelle scuole rurali americane, sono scuole che proprio per la distanza dei bambini dalla sede scolastica, appunto per i bambini è stato messo in avviene, messo in atto una serie di attività a distanza al posto della scuola, questi bambini appunto al posto della scuola in presenza, questi bambini seguono le attività a distanza. Anche in questo studio c'è una grande soddisfazione, questa è una survey fatta in 400 distretti dell'Illinois in America e c'è una grande soddisfazione rispetto alle attività a distanza, tanto che molti distretti ne chiedevano l'ampliamento. Ancora, se si vuole andare oltre c'è uno studio, una meta-analisi, quindi che prende in considerazione tantissimi studi, le meta-analisi sono quelle analisi che prendono in considerazione una pluralità di studi in un periodo di tempo, questa meta-analisi è stata fatta dal 99 al 2004 e anche in questa meta-analisi si dimostra che l'analisi dimostra che l'educazione a distanza può avere gli stessi effetti per quanto riguarda gli achievement, quindi gli apprendimenti dei bambini, dei ragazzi, quando comparata alla istruzione tradizionale. Allora io mi chiedo come mai e perché invece che puntare l'attenzione da parte dei genitori, dei giornalisti e di tutti quelli che hanno combattuto la DAD, perché invece di puntare l'attenzione contro la DAD non si è invece puntata l'attenzione sul fatto di volere una buona DAD, di richiedere una buona DAD? Perché non si sono fatte le manifestazioni per chiedere ai ministri che mettano in atto e a chi doveva prendere le decisioni, perché si mettano in atto tutte le misure necessarie affinché la DAD sia una buona DAD? Ed è possibile. E poi in conclusione vi leggo anche una frase di un'amica professoressa che parla della DAD e voglio leggervela perché è molto chiaro come anche attraverso la DAD passano le emozioni, i sentimenti, l'unità di gruppo e via dicendo. Quello che voglio dire è questo, che quando invece che parlare di negatività della DAD si parlasse, come diceva il collega precedentemente, di un'opportunità che la DAD ci dà per affrontare un periodo difficile, forse non saremmo qui a fare questi discorsi e soprattutto non saremmo qui a fare questi discorsi se il ministero e appunto i decisori avessero messo in atto le misure che erano necessarie ed erano possibili per fare una buona DAD, quali? Le ricerche ci mostrano chiaramente che ci sono alcuni elementi fondamentali per fare una buona DAD, 1. Le infrastrutture. Da aprile a settembre il ministero e i decisori avrebbero dovuto verificare le infrastrutture e andare a coprire quelle zone e quelle situazioni di difficoltà da questo punto di vista. 2. Formazione degli insegnanti. Da aprile a settembre noi ci saremmo mossi anche a distanza per fare una formazione agli insegnanti su come si può fare una buona DAD. Noi dico in quanto comunità accademica, ma poteva essere anche un'autoformazione, potevano essere fatte mille modalità, mille cose per formare gli insegnanti all'uso della DAD e al poter costruire e mettere in atto una buona DAD. E terza cosa c'era la sperimentazione. Si poteva benissimo da aprile a settembre mettere in atto delle piccole sperimentazioni su piccoli campioni di scuole con chiaramente gruppi di controllo e via dicendo per verificare come poter non solo entrare in classe ma anche come fare DAD. Quindi a questo punto io dico che il fatto che un ministero che ha da una parte promosso la DAD, nessuno l'ha voluta la DAD, l'abbiamo dovuta accettare come insegnanti, come docenti, non per capriccio, ma perché il ministero ha giustamente chiuso le scuole a febbraio e ha proposto alle scuole di mettere in atto attività a distanza, giustamente. Quindi nessuno l'ha cercata, nessuno l'ha voluta, ma un ministero che mette in atto un'azione per poi arrivare a settembre a sminuirla, negativizzarla, parlarne in modo negativo e anche a volte terribile, è demagogico. È demagogico perché non è il caso di dare la colpa alla DAD dei mali che in questo momento sicuramente ci sono, perché la DAD non viene spesso realizzata nel miglior modo possibile, ma è demagogico puntare l'attenzione e puntare il dito sulla DAD, quando invece bisognerebbe puntarla da una parte sulla prima delle due di, io dico, la didattica e non la distanza, e secondo il ministero e i decisori non hanno attuato nessuna azione per fare e per mettere in atto una DAD positiva, una DAD che funzioni. Chiudo il mio intervento con le parole di una amica, un'insegnante, perché sono molto belle e ci danno l'idea di come in DAD si possa lavorare. Questa collega insegna italiano e allora ecco, lasciatemelo dire, sono molto, molto fiera dei miei ragazzi, in questi mesi si sono impegnati, hanno dimostrato sensibilità e flessibilità, attenzione ai problemi dei più fragili, i più fortunati hanno maturato qualche passione, li ho visti crescere pur tra mille inquietudini e disagi, li ho sentiti preoccuparsi per familiari o amici ammalati, li ho percepiti impegnati, lo schermo non ha spento i loro interessi, ma li ha sottoposti a nuove sfide. Spero che potremo rivederci presto in modo sicuro e nuovamente sereno nella normalità di un quotidiano che manca a tutti noi, ma nel frattempo vorrei che nessuno, usando slogan pigri e strumentali, accusasse questi ragazzi di non aver fatto scuola. Questa amica è la Antonella Sbuelz, è anche una scrittrice, è una professoressa del Malignani di Udine e credo che queste parole possano farci capire come la DAD possa essere una buona DAD e una buona scuola.